Una giornata a treviso per Daniela Sbrollini che prima ha incontrato alcune realtà locali, poi sindacati, temi sul piatto, il lavoro e la scuola in vista di un autunno che si prospetta tutt'altro che facile. Importante, dice la candidata alla presidenza del Veneto, è ascoltare. Bisogna ascoltare, bisogna ascoltare e capire anche quali criticità ci sono per migliorare la condizione di ogni famiglia anche in questa splendida realtà. Lo stiamo facendo in questo bellissimo viaggio elettorale e devo dire che è molto bello non solo poter ascoltare ma cercare un dialogo costruttivo, quello che è mancato un po' in questi anni tra la regione e i territori. Una parola sulle manifestazioni organizzate dai negazionisti, fanno cattiva informazione, dice. Stanno creando un danno enorme perché fare cattiva informazione non c'è una verità scientifica, la verità scientifica è che bisogna vaccinarsi e quando ci sarà il vaccino anti-covid bisognerà renderlo gratuito e obbligatorio, chiaramente dopo averlo sperimentato e testato certamente. Sull'inizio del nuovo anno scolastico non ha mezzi termini, noi siamo stati la forza politica che mai avrebbe voluto chiudere le scuole e ribadisce. Avevamo chiesto alla regione di spostare i seggi elettorali in strutture diverse dalle scuole, molti sindaci anche nel Trevigiano avevano già individuato delle sedi alternative quindi se c'è la volontà politica si può fare, ma noi diciamo non solo per le elezioni regionali, per sempre. La parola d'ordine termina e tornare alla normalità.